Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. In questi giorni gli autoproclamati professionisti dell'informazione, che sono poi specialisti nel senso nicciano del far diventare favola al mondo reale, ci stanno informando con costante solerzia circa le ultimissime posizioni di Papa Bergoglio. Leggo tra i tanti giornali disponibili Il Giorno di Milano, Covid, Papa Francesco, negazionisti anche tra i cardinali, uno è ricoverato. Curioso intanto debbo dire che i principali siti di informazione, tra cui Il Giorno ma non soltanto esso, insistano sulla questione epidemiologica e sull'attacco diretto che Bergoglio ha condotto in maniera serrata contro i cosiddetti negazionisti. Curioso invece che poca attenzione sia stata dedicata ad altri temi, forse meno coerenti con il nuovo ordine del capitalismo globalizzato, che pure Papa Bergoglio ha affrontato nel suo discorso. Penso ad esempio alla sua opposizione alle nozze gay o all'aborto, temi sui quali si può discutere naturalmente e sui quali non necessariamente bisogna essere d'accordo con il sommo pontefice, ma che sicuramente, al di là di ogni dubbio, sono temi infinitamente più scomodi per la nuova ragione del mondo tecnonichilista rispetto al tema della caccia ai negazionisti. E non stupisce quindi che proprio sulla caccia ai negazionisti insistano quasi a senso unico le centrali dell'informazione del ministero della verità neorueliano. E a tal riguardo non sarà sfuggito come ormai il pontefice di Roma parli come un qualsivoglia segretario di partito liberal progressista. Egli infatti utilizza lo stesso lessico, le stesse parole, le stesse categorie, assai spesso infamanti, come nel caso del balordo lemma negazionismo, che viene peraltro applicato in modo decontestualizzato all'emergenza sanitaria. Ebbene sì, la chiesa di Bergoglio, ha detto Giorgio Agamben, è diventata sancella della nuova religione terapeutica. Ne abbiamo conferma, una ulteriore conferma, dalle parole che Papa Bergoglio ha dedicato ai cosiddetti negazionisti anche tra i cardinali. Chi sarebbero di grazi negazionisti? Perché mai usare questa infame categoria storica che viene utilizzata puntualmente in ambito storiografico per alludere a quanti neghino l'esistenza delle camere a gas? Perché usare questa categoria infame in relazione a chi semplicemente molto spesso ha dei dubbi circa la reale narrazione che viene condotta da un anno e mezzo dai padroni del discorso? Ebbene non stupisce più di tanto che anche Papa Bergoglio utilizzi le stesse formule, gli stessi costrutti narrativi rispetto ai padroni dell'informazione e rispetto anche al nuovo ordine terapeuticamente corretto. Ciò che segnala una volta di più ciò che da tempo andiamo dicendo sulle orme di Agamben, ossia che la Chiesa Cattolica è divenuta ancella della religione terapeutica e più precisamente la Chiesa Cattolica si è sciolta nell'atteismo liquido della civiltà dei consumi. La Chiesa ormai non è più un'altra agenzia di senso diversa e incomponibile con quella del mondo immanente della civiltà dei mercati. Al contrario ha scelto la via per poter sopravvivere di piegarsi alla civiltà dei mercati e di obbedire, verbo che Bergoglio ha utilizzato già più volte, verbo sul quale non si può non portare l'attenzione, da che è un verbo del tutto inappropriato per un pontefice in relazione al potere mondano. Perché mai un pontefice dovrebbe obbedire all'ordine mondano? Non dovrebbe forse essere, per citare Dante Alighieri, l'altro sole indipendente e autonomo rispetto a quello dell'imperatore? Ebbene, possiamo dirlo ampiamente, come già abbiamo detto, la Chiesa di Bergoglio sia ormai sciolta nella civiltà dei consumi e il fatto che parli lo stesso lessico nichilistico dell'ordine dominante ne costituisce una propria ulteriore.